Sappiamo benissimo tutti che tra qualche giorno ricomincia la scuola e questo non è un video per metterti ansia come tutti quei video che vedi che ti dicono Oh, fra qualche giorno ricomincia la scuola! No, è un video per farti riflettere La scuola è un posto di merda, perché è un posto di merda perché è piena di persone che ti faranno del male, ti faranno stare male che siano compagni o professori, che ti giudicheranno sempre professori mettendo dei tevoti, altri compagni prendendoti per il culo Ma la scuola è anche un posto meraviglioso perché è un posto in cui vivi ancora tra virgolette la tua spensieratezza è il posto in cui hai incontrato probabilmente i tuoi migliori amici è un posto in cui ogni volta che devi parlare di scuola ti verranno in mente soltanto ricordi che ti hanno fatto ridere o divertire Quello che voglio dirti è, viviti la scuola con gioia Non stare male per dei brutti voti o per dei compagni di merda che cercano di rovinarti la giornata ma porta sempre con te quei ricordi positivi che racconterai ai tuoi figli sono anche un posto in cui